Maria Cappellini Revisore Revisore a Maria Cappellini Revisore Revisore a Maria Cappellini Revisore Era una notte fredda di febbraio, c'erano meno 25 gradi e mi trovavo a quota 5.000 metri. A quell'altezza c'è molto meno ossigeno, manca il respiro. Bisogna camminare al rallentatore. Ogni passo sembra un chilometro, mancano le forze. Quella notte c'era la luna piena, ma non riuscivo nemmeno ad alzare gli occhi al cielo. L'unica cosa che riuscivo a fare era guardarmi nella punta dei piedi. Dovevo investire tutte le mie energie per mettere un piede davanti all'altro. Nella mia testa c'erano due voci. Una diceva, molla. L'altra diceva, coraggio, ce la puoi fare. Un altro passo. Mi trovavo sul Chilimangiaro e mancavano poche decine di metri alla vetta. Quella vetta, per me, era diventata un simbolo. Un simbolo di rinascita. Avevo deciso di scalarlo un anno prima, mentre mi trovavo nel mezzo di un periodo nero. Avevo avuto una caduta clamorosa che mi aveva scaraventata sul fondo del buco più buio e fetido che avessi mai visto in vita mia. Io lo chiamo il vuoto. Il vuoto è un posto fatto di dolore e autocommiserazione. Tanta autocommiserazione. Non ha né forma, né spazio, né tempo. Il vuoto è una non esistenza che ti mangia viva e niente lo può colmare. Perché il vuoto sei tu. Stavo talmente male che mi sembrava quasi di non sapere nemmeno più come si facesse a camminare. Talmente male che la parola felicità mi faceva infuriare. perché mi sembrava una presa in giro, una bugia. Poi un amico mi ha detto una frase che ha cambiato tutto. Perché nel momento in cui l'ho capita ho iniziato a muovere i primi passi verso direzione star bene. E mi sono promessa che da lì a un anno non solo mi sarei rimessa in piedi e sarei tornata in me, ma avrei anche ritrovato quella felicità in cui non credevo più. E, siccome mi spiacciono le sfide sobrie, per celebrare avrei scalato il chili mangiaro, convinta che una volta arrivata in vetta avrei finalmente capito tutto. Quella frase era «La felicità è una scelta». L'ho scritta su un post-it che ho attaccato accanto al mio letto e da quel giorno me la ripeto ogni mattina prima di alzarmi. «Felicità» è una parola ampiamente abusata di questi tempi, carica di bellezza ma anche di tutta una serie di pressioni che finiscono quasi per ottenere l'effetto opposto. Perché, ammettiamolo, non è facile essere felici. Abbiamo tutti le nostre montagne da scalare. Per alcuni la montagna è cambiare lavoro, cambiare percorso, fare un viaggio che si sognava da tanto, avere un figlio, prendere casa, affrontare una malattia, dire a qualcuno che lo amiamo, lasciare andare qualcuno che non amiamo più, mollare tutto e ricominciare da zero. Per altri, la montagna è semplicemente alzarsi dal letto la mattina. Nonostante tutti i motivatori e guru improvvisati che invadono il web con articoli che ci dicono «Come essere felici sempre!» e si atteggiano a coloro che hanno le chiavi dell'universo, in realtà nessuno ci capisce molto. Non si può googolare «come essere felici» e aspettarsi una risposta plausibile. Poi, la società in cui viviamo non è che ci facilita proprio le cose. È una società che distrugge tutto e tutti il nome del progresso. Una società basata sul consumo, che idolatra il successo, che viene misurato in soldi, status, numero di followers, e che feticizza la perfezione. E, spoiler alert, la perfezione non esiste. E ci dice continuamente che dobbiamo fare, apparire, performare, avere, desiderare, accumulare, creando così falsi bisogni che ci spingono a volere sempre di più. Come se non bastasse il tutto illustrato, filtrato e distorto dai social, dove tutti, gli altri, sembrano felici sempre. Tutto questo l'ho capito anche grazie al mio lavoro, che mi ha portato a vedere tanta felicità, ma anche tanta infelicità. Sono una storyteller, altra parola ampiamente abusata di questi tempi. Dopo una carriera come fotografa di moda a New York, carriera che mi rendeva infelice e piena di sensi di colpa, ho deciso di mollare tutto, iniziare a viaggiare in solitaria e ho cambiato rotta. Oggi sono una fotografa documentarista, faccio video, scrivo, viaggio, tanto. E per guadagnarmi da vivere racconto storie. Racconto storie di luoghi, di culture diverse della nostra, ma soprattutto storie di persone. Negli ultimi anni ho lavorato principalmente in Asia e in Africa, spesso su progetti umanitari. E intervisto molte persone e faccio a tutti le stesse domande. Domande semplici. Dove vivi? Cosa mangi? Quali sono le tue difficoltà? Quali sono i tuoi sogni? Cosa ti rende felice? E le risposte a quest'ultima domanda spesso sono straordinarie nella loro semplicità. Per questo signore a Cuba è suonare. Per questa donna in Birmania, in dry zone, una zona dove non cresce niente e le ONG le hanno insegnato a coltivare tramite le serre idroponiche. Per lei è poter raccogliere le sue verdure. Per questa famiglia, sempre in Myanmar, è poter mettere il cibo in tavola per i propri figli. Per questa donna in Marocco è poter mandare a scuola la figlia. Per questa ragazza Sara, una ragazza masai che ha iniziato ad andare a scuola solo l'anno prima, quando aveva 15 anni, per lei è poter ricevere un'istruzione. Per questa donna in Tanzania è potersi mettere dei vestiti puliti la mattina. Quante di queste cose diamo per scontate? Qualche mese fa ero in Iraq per documentare le storie di bambini e adolescenti che vivono nei campi per rifugiati del Kurdistan. Le persone che vivono nei campi hanno perso tutto. Si sono dovuti lasciare alle spalle la loro casa, la loro vita, i loro affetti, e non perché in cerca di un futuro migliore, ma per scappare dall'ISIS, per rimanere vivi. Hanno visto orrori che per fortuna molti di noi non riescono nemmeno ad immaginarsi e oggi vivono bloccati in un campo e le loro vite sono sospese in un limbo continuo di incertezza. Ad alcuni dei ragazzini che ho intervistato ho chiesto se potessi esprimere un desiderio. Uno, cosa chiederesti? E le risposte sono state tornare a casa, tornare a scuola, rivedere la mia famiglia, che ci sia pace. Quante di queste cose diamo per scontate da questa parte di mondo? Viaggiando e documentando le vite degli altri ho capito quanto fossi davvero fortunata. Ad essere nata dove sono nata, ad avere un passaporto che mi permette di viaggiare e andare praticamente ovunque, ad aver ricevuto un'istruzione, ad avere dei diritti che vengono tutelati, ad avere la possibilità di scegliere cosa fare nella mia vita. Tutte cose che prima davo per scontate. C'è gente al mondo che non ha niente di tutto questo, gente che non ha scelta, gente che non è libera di scegliere. Noi, in Occidente, quella scelta l'abbiamo. Certo, abbiamo tutte le nostre difficoltà, i nostri dolori, i nostri problemi da superare, però la scelta ce l'abbiamo, la scelta di star bene ce l'abbiamo, e sta solo nelle nostre mani. Eppure, siamo bravissimi ad essere infelici. Passando molto tempo in Asia, ho iniziato ad appassionarmi alle filosofie orientali, che guardano la vita in maniera completamente diversa da come la vediamo noi. Noi tendiamo a cercare la felicità all'esterno. Se avrò quella cosa, quel lavoro, quella persona, quel numero di followers, allora sarò felice. Mentre per molte altre culture, la felicità può essere cercata e trovata solo all'interno. E sapete perché? Perché loro tengono in considerazione qualcosa che per la nostra società non ha praticamente valore, ma che invece è l'unico vero luogo da cui attingere alla felicità. L'anima. C'è un nemico numero uno della nostra anima, che è il nostro ego. L'ego non vuole il meglio per noi, l'ego non si vuole bene, non vuole che noi ci vogliamo bene. E quindi fa tutta una serie di cose che ci fanno star male e quindi ci rendono infelici. La prima è guardare le mancanze invece che quello che già si ha. Invece che concentrarci e disperarci per quello che non abbiamo, se riuscissimo ad essere grati per quello che già abbiamo, la vita intorno a noi cambierebbe completamente, si trasformerebbe, perché la gratitudine è il primo vero passo fondamentale verso una vita felice. Una mancanza che invece ci fa star male è la mancanza di significato nella propria vita. E questa è strettamente legata a come passiamo il nostro tempo, e quindi anche al lavoro. Abbiamo l'idea che il lavoro debba essere qualcosa di faticoso, spiacevole, fatto solo per fare i soldi. Ma il lavoro occupa gran parte del nostro tempo, e il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo. È importante cercare di farne uno che ci piaccia, che ci stimoli, o almeno che abbia un senso per noi, perché non siamo qui solo per pagare le bollette e morire. Un modo, il modo migliore, per trovare significato nella propria vita è farsi delle domande, le domande grosse. Ma io chi sono? Che cosa ci faccio qui? Qui, in questo strano posto chiamato vita? Una cosa che invece piace tanto all'ego, ma che ci fa malissimo, è il controllo. Basti guardare come viviamo il tempo. Stiamo male per il passato, che non c'è più, e ci disperiamo e ci preoccupiamo per il futuro, che non esiste, è un'illusione. Non abbiamo nessun controllo sul futuro, solo sul momento presente, il famoso qui e ora, e su come reagiamo a quello che ci sta succedendo adesso. Il controllo non esiste. L'unica cosa che possiamo controllare, in questo mondo, in questa vita, su questa terra, siamo noi stessi. Possiamo controllare e scegliere come passiamo il nostro tempo e con chi, come investiamo il nostro denaro e le nostre energie, quello di cui ci nutriamo, il cibo che ci mettiamo in corpo, i libri che leggiamo, quello che guardiamo, le persone che seguiamo online. E, lo so che sembra assurdo, ma fidatevi, è possibile. Possiamo controllare i nostri pensieri. Quando un pensiero negativo arriva, possiamo scegliere di lasciarlo andare, invece che seguirlo nella sua spirale autodistruttiva. per vivere bene bisogna lasciare andare il controllo. Come? Avendo fede. Che tutto andrà come deve andare. Che tutto succede per una ragione. Un altro fattore di sofferenza è il condizionamento. Ogni giorno ci vengono buttate addosso informazioni, opinioni, giudizi altrui. E se li ascoltiamo, va a finire che non riusciamo più a sentire l'unica cosa che conta davvero nella nostra vita. Quella che io chiamo la voce. Ce l'abbiamo dentro tutti. C'è chi la chiama istinto, intuito, anima. È una vocina rompipalle, che più che dai pensieri viene dalle viscere. E solo lei sa cosa è meglio per noi. Vi faccio un esempio. Magari tu vuoi fare, non so, l'illustratrice. Però i tuoi genitori ti convincono a fare giurisprudenza. Non vuoi deluderli, così prendi e continui su quella strada, che però ti fa schifo, perché non era la strada giusta per te, perché qualcun altro l'ha scelta per te. Così piano piano inizi a stare male, ti senti in trappola, incastrata, persa, senza significato, perché stai vivendo la vita di qualcun altro, ti sei tradita. Non tutti riescono ad ascoltare la propria voce, perché c'è troppo rumore intorno. Bisogna imparare a decondizionare il pensiero da quello degli altri, a sbatterse del giudizio degli altri, a circondarsi di silenzio ogni tanto e ascoltarsi nel profondo, non nella testa perché la mente mente, ma nel cuore, e seguire la propria voce ovunque ci porterà. Anche se ciò richiede un cambio di rotta, perché solo così si trova la propria strada, solo così si riesce ad essere se stessi, ed essere se stessi, rimanere veri a se stessi, è la libertà e il successo più grande di tutti. A volte, però, non riusciamo a seguire la nostra voce, perché viene sovrastata da quella della paura. Ma la paura è una bugiarda ladra di sogni che non ha niente da offrire. L'unica cosa che ha da dire è no, stai ferma, non fare niente. E se la si ascolta, si finisce per vivere una non vita, perché il rischio è necessario se si vuole vivere davvero. In tanti mi dicono che sono coraggiosa. In realtà, sono solo una persona molto curiosa. Sono curiosa di vedere dove mi porterà la vita, di vedere come va. E se cado? E se mi faccio male? Almeno ci avrò provato. E alla fine dei miei giorni potrò guardare indietro senza rimpianti e dire wow, quanto ho vissuto. Essere coraggiosi non vuol dire non avere paura. Vuol dire avere una paura folle, ma farlo comunque. Vuol dire ascoltare quella voce che ti dice coraggio, un altro passo. E questo ci riporta sul Chilimangiaro. Quella notte ho scelto di ascoltare la voce che mi diceva di fare un altro passo e sono arrivata in cima, sulla vetta tanto sognata. E sapete cos'è successo quando sono arrivata in cima? È stato bellissimo, una soddisfazione immensa. Ma poi sono dovuta scendere. Perché non si può rimanere sulla vetta per sempre. E così è la vita. Non si può essere felici sempre. La felicità è uno stato transitorio, come l'equilibrio. Ma esiste? Bisogna ricordarselo sempre, aspirarci. E non serve scalare una montagna vera e propria per toccarla. Basta camminare mettendo un piede davanti all'altro. Non ha senso voler scalare una montagna per arrivare in cima e piantarci sopra una bandierina. La vera soddisfazione del raggiungere una vetta sta nella fatica che si è fatta durante il cammino e in quello che si è visto, vissuto e imparato durante il cammino. E camminando si scopre una parola che secondo me è molto più bella, umile e tangibile di felicità o equilibrio. Armonia. Armonia tra mente, corpo e anima. Tra gioia e dolore. Tra luce e ombra. Perché alla fine non c'è l'una senza l'altra. Armonia. È quella, la vera vetta da raggiungere. E ce l'abbiamo dentro. Da sempre. Parafrasando Alan Watts, invece che interpretare la vita come un viaggio con una meta specifica o come una montagna con una vetta da raggiungere, dovremmo interpretarla come qualcosa di giocoso, come una musica o una danza. Perché il punto di una sinfonia non è arrivare alla fine, ma suonarla. Il punto di una danza non è arrivare in un punto specifico del pavimento, ma danzarla. Invece fin da piccoli ci mettono in testa che la vita sia una sorta di pellegrinaggio verso il raggiungimento di una meta. E lo scopo sia arrivare a quella meta, che sia il successo, la pensione, magari il paradiso dopo la morte. E poi, arriveremo alla fine e ci accorgeremo che per tutto il tempo c'era sfuggito il punto. Era una melodia e dovevamo cantarla o ballarla finché la musica veniva suonata. Alla fine io non ci ho ancora capito molto di che cosa ci faccio qui, ma faccio il meglio che posso per continuare a scegliere di ballare ogni giorno un passo alla volta. E auguro lo stesso anche a voi. Bon courage. Grazie. 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 Grazie a tutti